La passione che spinge ogni uomo all'impegno per ciò che sente nel cuore, la passione di un giornalista a raccontare la verità, a scavare finché essa non emerge del tutto, a scandagliare ogni anfratto, ogni angolo, ad ascoltare, a domandare, a leggere, a confrontare. Franco Landolfo coniugava tutto questo, passione per la vita, passione per la natura e l'ambiente, passione di un padre, di un marito, passione di un giornalista per il suo mestiere, messa in atto anche nel trasmettere questi valori a generazioni di giovani cronisti. Questo è stato Franco, un maestro per quanti hanno conosciuto il prestigio dei suoi insegnamenti, dei suoi consigli, delle dritte che non ha mai negato a nessuno. Una vita nel Roma, altrettanto abbattersi per i diritti di questo mestiere, fondo larga, l'associazione regionale giornalisti agricoli porta il nome di Franco Landolfo, il premio alla seconda edizione, assegnato a quanti hanno portato avanti a suon d'inchieste la lotta per la salvaguardia dell'ambiente. Franco che in questi giorni avremmo trovato in prima fila nella battaglia per le terre dei fuochi, le sue terre. Direttore Sasso, seconda edizione, soprattutto si ricorda un personaggio, un personaggio che per lei è stato un amico, per noi è stato un maestro. Sì, un amico, un collega, un fratello, abbiamo vissuto una vita di 40 anni insieme, dal vecchio Roma e di Achille Lauro fino al giorno della sua scomparsa. Io ho vissuto con lui gli ultimi attimi della sua esistenza, le sue ultime parole sono state rivolte a me, l'ultimo saluto l'ha dato a me, quindi è un ricordo che resta indelebile nella mia memoria. Oggi è un giorno particolare perché oggi Franco avrebbe compiuto 70 anni, avrebbe festeggiato a modo suo con tanta allegria, con tanti brindisi. Qual è il migliore omaggio per Franco Landolfo attraverso questi lavori che rappresentano anche un'evoluzione dei suoi insegnamenti e anche un modo di fare il giornalismo che non si è perso, non si è smarrito? Sì, infatti è stata una sorpresa, devo dire la verità, rispetto all'anno scorso quest'anno abbiamo avuto degli elaborati veramente interessanti. Per scegliere abbiamo perso tempo fino a quando a decidere l'ex seguo perché volevamo premiare tutti e tutti erano di un certo livello, a livello giornalistico scritto soprattutto dai corrispondenti, dai collaboratori, dai giornalisti pubblicisti che sono poi quelli che sono la vera linfa di un giornale. L'edizione di questo premio sarebbe molto piaciuta a mio padre perché c'è stata una grande partecipazione di giovani che rappresentano tra l'altro la quasi totalità dell'informazione locale e che fanno venire fuori un dato molto interessante, cioè che a dispetto di un momento sicuramente difficile per la professione l'informazione in Campania gode di ottima salute. questo è il motivo per la cui la commissione ha deciso di frazionare il premio in tutte le categorie. Sette i vincitori della seconda edizione del premio Landolfo. Per la carta stampata eseguo le inchieste pesche e mele, l'oro perduto della terra dei fuochi e dei veleni di Antonio Menna del mattino e sfreggi lagni di Nello Lauro, direttore del settimanale 7. Menzione speciale a bandiera grigia sulle coste flegree di Ciro Biondi, segni dei tempi. Ex equo per la radio televisione le sentinelle della terra dei fuochi di Germana Grasso e Stella Colucci e uno scrigno di tesori sommersi nei fondali di Capri di Giuseppe Catuogno. Menzione speciale per la finta crisi dei rifiuti in Campania di Andrea Postiglione e Nello Trocchia. Per la sezione internet e foto e video reportage anche qui un ex equo con quella bufala della mozzarella DOP di Pietro Falco, Espresso.it e Green Technology in Campania di Alessandro Savoia, Roma Online. Menzione speciale per Casa al Nuovo, là dove la terra frana, a firma di Enzo Ruggero, reporter di Videonola. Nello Lauro, la tua inchiesta, innanzitutto raccontacela. È un'inchiesta dello scorso marzo, riguarda i Reggi Lagni, che questo canale borbonico che abbraccia dal Nolano e arriva fino alla Domiziana. La nostra è una fotografia, inchiesta, dossier, su tutto quello che c'è nascosto e tutto quello soprattutto che si vede in tutto questo reticolo borbonico che è diventata praticamente una discarica a cielo aperto e nel vero senso del termine. Qualsiasi cosa, qualsiasi spazio aperto è stato coperto completamente da rifiuti di ogni genere, da rifiuti tossici ai rifiuti comuni. Ecco, raccontiamo anche la tua esperienza di oggi. Il quotidiano locale è un'esperienza di un giornalismo che cambia ma che diventa, l'immediatezza diventa notizia, ma l'immediatezza non significa che la notizia deve essere lanciata così, deve essere sempre verificata. Il tempo e il giornalismo devono coniugarsi sempre. Certo, è una sacrosanta verità. La notizia va sempre verificata, anche nel mondo della velocizzazione, della globalizzazione di internet che consuma e divora e ingoia qualsiasi tipo di notizia, come il fatto di Tepiscopo oggi che è addirittura del clamoroso. È un fatto che bisogna sempre verificare. I giornali locali sono il tramite per poter arrivare e per poter far capire, poter penetrare nel territorio e far capire che il problema nasce dal nostro vicino, dalla nostra quotidianità. Praticamente la notizia è intorno a noi. Grazie a tutti.